Cosmo debuti sul sul palco dell'Ariston come ospite nella quarta serata accompagnandola la rappresentante di lista con Margherita Vicario e Ginevra nella cover di Be My Baby delle Ronez. Com'è arrivata la proposta di partecipare alla serata delle cover? Mi hanno contattato prima appunto tramite management la rappresentante di lista, cosa che mi succede quasi ogni anno da qualcuno che partecipa, ne ho sempre detto no e anche stavolta ho detto no. Poi Dario mi fa no no devo parlarci direttamente e devo spiegargli bene. Mi ha spiegato bene che c'era una certa libertà artistica in ballo che avrei potuto mettere mano all'arrangiamento, insomma voleva da me un ruolo non da duettante a cantante, anche perché a me non interessava andare a cantare un duetto, ma un ruolo più particolare che mi sarei anche potuto inventare. Non sarà una performance diciamo scenica la mia, soprattutto una performance musicale particolare, quindi c'è un momento bello matto. Quelle battute che saranno riservate proprio a me sono proprio fuori di testa. A me piace tantissimo col pezzo e avevano già fatto anche una bozza. Poi io l'ho presa, l'ho messo in mano perché tanto potevo, quindi l'abbiamo portata su territori a livello ritmico così, su territori più elettronici inglesi anni 90. Breakbeat tecnicamente. Quindi sì è stato, a me invece poi il pezzo è fortissimo di suo, quindi sotto in realtà poi cambiare di un po' il groove, no? E anzi è meglio ancora se glielo cambi. Quindi abbiamo proprio cambiato e no è stato figo. Il pezzo ha fatto sicuramente perché è un pezzo della madonna, quindi quello mi ha convinto anche il fatto che fosse quel pezzo lì. Sì, tra l'altro recentemente si è anche pianta la scomparsa di Ronny Spector, quindi avrà un valore. Era un caso, sì sì. Sì era un caso, però di fatto sì diventa quello. L'avevano già scelto prima e poi ho detto cazzo è successa sta cosa. Non so se avevano anche avuto il dubbio, ma forse dobbiamo evitare di cantare questa canzone. In realtà poi fai l'esatto opposto, nel senso è bello rendere omaggio, no? Anche perché io e noi siamo molto molto contenti del risultato, quello tanto. Quindi è un'operazione artistica questa anche proprio non è un giochino e basta. È proprio una cosa che musicalmente ci soddisfa tanto. Cantatorato, dance e tecnocassa dritta sei un po' il mix che riassume ciò che contraddistingue la tua musica, che oltretutto con il tuo ultimo album, La terza estate dell'amore, ha anche assunto una sorta di eleganza, una forma di reazione al successo che avevi conquistato con i tuoi precedenti album. Quanto si sentirà del tuo tocco sul palco di Sanremo e qual è poi stato effettivamente il tuo contributo, anche cosa vedremo sul palco dell'Ariston. Io mi sono occupato soprattutto del bit elettronico e di qualche sintetizzatore acido che si sente e questa cosa poi esploderà in una parte che è dedicata proprio a me in quel momento e lì succederà musicalmente proprio qualcosa di imprevisto, come se arrivasse un astronave sull'Ariston per un tot. Nel senso che volevo appunto dare un tocco molto particolare e sperimentare al pezzo, esattamente come ho fatto nel mio ultimo disco. Mi piace la pormula del pop che però al suo interno contiene dei deliri. Non so, mi piace quasi psicanaliticamente il fatto che ci sia un ritorno del rimosso, non so, c'è una dimensione musicale anche altra dentro, che non sia tutto funzionale, soltanto la dimensione pop. Che poi tra l'altro la mia idea di pop è la cosa più pop del mondo e quando riesci a mettere una cosa pazza in un pezzo e quindi c'è una super canzone con una roba ancora matta che gli dà ancora più carattere, quindi alla fine rende il tutto ancora più particolare. Sarà una sorta di blitz di cosmo che entra all'Ariston o non possiamo definirlo così? musicalmente sì, nel senso che quando sentirai la parte in cui sono, diciamo, da solo a suonare, a fare delle robe strane, sì, musicalmente. Non faccio granché di coreografia, ecco, non faccio niente di coreografia però musicalmente sì, arriverà un po' un alieno. Come nasce il tuo rapporto con Veronica e Dario? Persona che siamo più fermati così a parlare, in realtà non eravamo mai stati così in contatto, loro mi seguivano avevano apprezzato, mi hanno detto, quest'ultimo disco mio che è uscito l'altro anno e mi hanno contattato questa cosa qui. Li avevo intravisti nei festival e pensavo che bravi che sono. Anno dopo anno sentivo sempre più bravi. Poi quando mi hanno contattato, un po' a sorpresa, appunto, abbiamo lavorato insieme in queste ultime settimane devo dire che siamo trovati subito bene, cioè c'è un terreno comune, culturale, musicale che ho capito ci fa andare proprio d'accordo. Infatti è stato figo, nel senso, con tutto che sia potenzialmente stressante lavorare a questo tipo di cose, in realtà loro sono stati proprio carini sul pezzo, pazienti, anche devo dire sono persone molto professionali, sono proprio... quello che stanno facendo in questi giorni è un lavoro che è veramente grosso, stanno veramente ammazzandosi di lavori, infatti dico, massima stima. Qual è il tuo rapporto con il festival? Arrivi a Sanremo da spettatore affiatato o è il contrario? Nell'ultimo... nell'ultimo periodo devo dire che è cambiato, nel senso, prima c'era, non c'era, quella roba che non ho mai seguito con chissà che passione, però nonostante tutto è una cosa che meno male entra in casa. È sempre stato un sottofondo comunque inevitabile, no? Quindi qualche episodio memorabile, insomma, guardavo, non lo guardavo tutto. Invece ultimamente, essendoci un sacco di gente che conosco che fa suonarci, pensando che anche mi hanno contattato più volte loro, l'ho seguito un po' di più. Però ho un rapporto di curiosità soprattutto. Sicuramente la svolta di questi ultimi anni, che ha integrato un po' di più il sottobosco emergente della musica, l'ha portato un pochino più nel futuro, nel presente. Secondo me con ancora un po' più di audacia nella direzione artistica potrebbe essere veramente ancora più significativa. Cioè ho un rapporto di, non dico di amore-odio, però ecco, sono, mi interessa, però dico cavolo, si potrebbe fare di più, si potrebbe fare meglio artisticamente. Io parlo strettamente dal punto di vista musicale, poi il fatto che poi spesso ci si inventi delle performance quando si va al festival, secondo me alla fine ci sta, perché è uno spettacolo televisivo, prima di tutto, quindi ci sta anche la ricchezza visiva, no? Anche se è meno sobrio, se voglio dire, ci sta, che cambi. Detto questo, sì, è un rapporto, sono un italiano alla fine, Sanremo, volentemente lì. Valorea per te questa partecipazione al festival? Che momento rappresenta nella tua carriera? Non lo so, vado abbastanza incosciente, anche perché andare la prima volta appunto in questo modo qui, dico, beh, secondo me quando mio nonno mi vedrà dirà, cacchio ha fatto Marco? Ecco, quindi potrebbe essere, è un momento particolare, un esperimento interessante, però non so cosa, per sai certe cose che capisci solo dopo, no? Che significato hanno avuto la tua vita? Adesso non ho idea, mi sto buttando, mi sono buttato anche perché è a fine dello scorso mese che sono stato contattato, pochissimo tempo fa, e sono contento che sia stato così, perché se l'avessi saputo da, che ne so, dall'autunno, dall'inverno, dalla fine 2021, mi sarei magari angosciato, invece così è arrivato l'ultimo momento, no, no, ok, sì, va bene. E mi è piaciuto il fatto di andare anche così un po' incosciente, senza rifletterci troppo. Prima raccontavi che già in passato, se non ho capito male, ti erano arrivate delle proposte di partecipare, di affiancare qualcun altro che ha partecipato alle edizioni precedenti. Come mai ci spieghi più approfonditamente il tuo rifiuto precedente di partecipare? E che non mi sono... saremo una trasmissione che appunto mi incuriosisce molto, in cui ho sempre avuto il timore, la sensazione di essere inadeguato per quel tipo di palco. Io nasco appunto a un musicista, si è fatto una gavetta nei club, semi vuoti per anni e anni, quindi parto molto dalla base, no? Quando posso arrivare a suonare nei club, 3.000 persone poi al forum, è stato tutto lento e graduale, e ogni volta allo step successivo mi sentivo preparato, no? E poi la dimensione live, reale, il spettacolo televisivo è un'altra cosa, poi impegnativo così, è una cosa che mentalmente da gestire di stress non è una cosa che mi rende molto tranquillo, pensarci. Sui duetti era più o meno lo stesso ragionamento, pensavo male la pena che io vada a duettare, non so se mi interessa duettare una cover, così. Non sono uno a caccia di visibilità a tutti i costi, se faccio una cosa perché mi sento a mio agio, mi interessa, ho qualche tipo di messaggio da dare, se no per la visibilità, per la visibilità non mi interessa, capito? E quando loro mi hanno contattato con questo progetto artistico un po' più profondo, ci metti in mano l'arrangiamento, insomma, che mi hanno fatto mettere back con quello che era tutto l'insieme del pezzo, mi è sembrato un lavoro interessante, perché andavo lì anche proprio a esprimermi in maniera più completa, perché andare solo a cantare su una base che non avevo fatto, cioè quella roba lì, e mi auto percepisco poco come cantante, soprattutto come cantante e produttore, produttore e cantante, quindi il fatto di andare solo a duettare mi sembrava di essere un po' forviante rispetto a quello che vorrei essere per il pubblico. È probabile che quello che sentirai dopo la tua partecipazione al festival in qualità di ospite sia invece, nasca un desiderio di partecipare poi in gara negli anni futuri. Ma non lo so, non lo so. Non ho idea, veramente non ne ho più idea. Adesso ti direi ma no, no, però sai, non voglio neanche dire cose che più mi contraddico, oppure sì, 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 e poi non andarci mai, non lo so. Non ho così. È un po' mai dire mai, insomma, come... Ma sì, certo, no, su quello... 40 anni tra poco mi ha dato essere un po' meno categorico sul futuro, perché effettivamente fino allo scorso mese non avevo detto che a cantaremo io non c'ero quest'anno, assolutamente. L'hai visto in queste serate il festival? Penso ai soliti pregi e difetti del festival, quindi magari hai qualche intuizione mezza geniale, quando poi dici altre cose e dici perché? Veramente non c'erano canzoni migliori, artisti migliori, non ci credo. Anzi, sicuramente non è così. È solo che la TV appunto segue delle logiche che non sono sempre quelli della qualità musicale, secondo me. Ci sono molti altri ragionamenti dietro, perché giustamente è un evento enorme, che per la RA è molto importante anche a livello di bilanci, quindi fai tutti i calcoli in maniera di essere il più ampio possibile, non guardi solo ed esclusivamente la qualità. Quindi il solito Sanremo, diciamo. Devo dire, apprezzato il palco veramente supersonico, faraonico questo palco di luci, anche visto poi da dentro. Vabbè, le solite polemiche me le tengo fuori, diciamo quelle sulle ospitate e via dicendo. Mi tengo abbastanza fuori da queste polemiche, però forse alla fine il fatto che si sollevino polemiche è anche sano, nel senso che è un paese che riflette su certe tematiche, nel modo giusto o sbagliato. Poi è giusto anche che se qualcuno si sente ferito, tiri fuori le sue istanze che vengano chiarite, perché questo serve. Quando si litiga qualcuno riesce a esprimere delle cose, ci si coordina un po' meglio forse. Quindi bene o male, almeno si rimettono in circolo certe. Basta che non diventi una cosa controproducente, però mi sembra che sono abbastanza ottimista. Va, chiudiamo questa nota di... Negli scorsi mesi si è stato uno degli artisti che maggiormente ha fatto sentire il proprio sfogo, ha fatto luce un po' sulla difficile situazione che sta vivendo tutto il settore dello spettacolo, tutti i lavoratori, i musicisti, a causa della pandemia. Una pandemia che tra l'altro sta ancora dando del filo da torcere a tutti, tanto che i tuoi blitz di dicembre sono stati annullati e ora aspettiamo di vederti tornare in scena a Bologna. Incrociamo quindi le dita. Quali sono i sentimenti e le sensazioni di un artista che per forza di cose deve rimandare o annullare un tour o dei concerti, soprattutto come nel tuo caso che metti al centro la comunità, la salute delle artisti? Sono stati due anni difficili, cioè da quel punto di vista lì molto frustranti, perché appunto manca la cosa principale con cui intendo la mia musica, proprio che è una cosa live, quindi è stato veramente anche un... dover riconsiderare qual è il mio ruolo, cosa voglio essere, e quindi è stato frustrante. Mi meraviglia un po' che al festival non sia venuto fuori tanto il discorso, ma attualmente con le leggi ancora in vigore non nessuno ha parlato nei decreti di cambiarle, non ho capito se questa cosa di colori cambierà, ma di fatto, anche se sono in zona gialla, per me, per quelli come me, è impossibile lavorare. Capienze, sedute, obbligatorie, o se in zona bianca non riusciamo a lavorare, quindi a me sembra un tantinello che adesso stiamo ignorando un problema, cioè il settore non ha riaperto e con queste regole non puoi aprire, quindi bisognerà, come per tante cose, cambiare anche le regole per noi, perché se no qualcuno ha già rinviato date che aveva marzo, qualcuno ci sta sperando, però insomma non si può lavorare in questo modo. Bisogna far arrivare chiaro un messaggio che il settore non è ripartito e che stiamo, abbiamo bisogno, stiamo aspettando che c'è bisogno appunto di una ripartenza seria, quindi bisogna lavorare con delle regole sostenibili. Sono tutte le premesse per poterlo fare, questo intendo. Le date che dovevamo fare ottobre a Bologna, Grosso, sono state spostate a metà aprile, se non sbaglio 15, 16, 18. 18 tra l'altro dovrebbe essere Pasquetta, quindi si fa anche una Pasquetta Festival. Facciamo una specie di mini festival praticamente ogni volta. Quindi ci sarà una 9-up che annunceremo più avanti, ci sarà da farsi una bella giornata, barra serata, lunga diciamo. Quindi questo è il focus principale, anche se è rimasto tutto appunto rimesso nell'armadio con la naftalina per qualche mese, poi lo ritireremo fuori. In questi mesi mi sono dedicato soprattutto ai Veratronic per rimettere in piedi un po' l'etichetta, che anche lì, essendo un'etichetta che è nata soprattutto per i clubbing, nel momento in cui i club sono stati chiusi per due anni, ha avuto anche lì una botta abbastanza, una pausa di riflessione forzata. E quindi ci siamo messi a lavorare su progetti anche ambient. Diciamo che mi sono dedicato a cose non strettamente, diciamo, da business. Ecco, ho fatto più una cosa artistica mia, anche di ricerche per i miei DJ set, di brani, ascolto un sacco di musica. Diciamo che questo è... mi sono focalizzato su questo. Sullo scrivere devo affrontare un po' di novità, cioè ogni volta che scrivo voglio cambiare un po' metodo e quindi sono in quella fase che durerà magari un po' in cui adesso esploro, mi guardo intorno, cerco di capire come muovermi per il futuro nella scrittura, quali strumenti usare, come usarli. Ho rismontato lo studio, l'ho rimontato. C'è una fase così che si vede poco ma che in realtà è di lavoro molto importante per il futuro. È poco spettacolare come momento, diciamo. Però appunto in realtà dopo le date di aprile si spera anche di aprire una stagione di concerti estiva e autunnale seria, insomma. Quindi in realtà sta per arrivare, se tutto va bene, dello tsunami di lavoro con live. Che ci va, ci va, ci vuole. Ringrazio ancora davvero tanto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.